Arresto non convalidato, richiesta di arresti domiciliari respinte e sospensione dal servizio per 12 mesi che scatterà però soltanto dopo la pronuncia della Cassazione. E' quanto stabilito dal Tribunale del Riesame di Genova in merito alla vicenda della preside dell'Ipsia di Imperia, Narita Zappulla, accusata di utilizzo improprio dell'auto della scuola. Il legale difensore della preside, l'avvocato Andrea Rovere, ha già annunciato ricorso in Cassazione avverso il provvedimento del riesame e pertanto la sua cliente per il momento resterà libera e regolarmente al lavoro, nonostante le proteste che erano scattate nei giorni scorsi da parte di insegnanti e alunni della scuola che si erano anche recati in provveditorato per chiedere che la Zappulla venisse allontanata dall'istituto fino al termine della vicenda giudiziaria. Considerati i tempi legati a una pronuncia della Cassazione, è facile che nel frattempo il processo a carico di Narita Zappulla venga già istruito e forse persino definito.